Buongiorno a tutti, questa è la presentazione della delegazione di AGA, dell'associazione contro gli abusi in divisa che incontrerà a Bruxelles alcuni parlamentari europei grazie all'iniziativa del gruppo unitario della sinistra al Parlamento europeo. Abbiamo costruito dentro quella che noi abbiamo definito l'anomalia Italia e per in qualche modo raccontare l'anomalia in Italia, che è un sistema complesso di violenze, coperture, militiche, mediali e giubili che in questo paese stanno vedendo delle vittime. Io credo che la repressione sia l'altra faccia dell'Europa neoliberalista, dell'Europa dell'austerità e all'interno di questo contesto europeo c'è un caso italiano e noi di questo caso italiano vogliamo fare un tema di lavoro politico fondamentale, portarlo all'attenzione del Parlamento europeo in primo luogo attraverso le voci dei parenti delle vittime e le voci delle situazioni come AGA, su una repressione che su questo fanno un lavoro eccellente. Io credo che sia così tanto importante quello che stiamo per fare e anche per tutte queste persone che in qualche modo non hanno voce. C'è quasi dei tenenzi fortunati nel momento in cui l'ominione pubblica ha un'attenzione per il tuo morto, quando tutto intorno a te ti vuole far capire che quel tuo morto in fondo non contava nulla, che quella è una morte rispetto alla quale si può far finta di niente. Questi sono tutti segnali che le nostre famiglie ricevono sempre, puntualmente, con dei meccanismi che sono sempre gli stessi, quelli che in qualche modo vogliono lasciarci nell'isolamento, nel silenzio, nel gioco si forte del disinteresse generale. Questa intervista per noi è una chance, una possibilità concreta di sollecitare l'attenzione dell'Europa rispetto a un paese come il nostro che è un po' pigro nella tutela dei diritti umani e soprattutto nella repressione e la violazione dei diritti umani. È un po' pigro anche a livello legislativo perché non si è ancora dotato di una legge sulla tortura efficace e reale e quindi per noi è una grande possibilità perché attraverso vicende terribili e purtroppo numerose, quelle delle famiglie che avranno possibilità di essere ascoltate dal Parlamento europeo e anche attraverso la mia voce faremo capire che in Italia abbiamo un problema e questo problema bisogna affrontarlo in maniera seria.